Eccoci con il dottor Vito De Palma, candidato al Consiglio regionale pugliese con Forza Italia. Abbiamo affrontato in precedenti interviste la tematica dello sviluppo economico, uno sviluppo economico che considerando l'area di Taranto passa soprattutto dall'agricoltura. Ecco, come potenziarla, come farne davvero un volano della nostra economia? Sicuramente il primo obiettivo è quello di evitare di sottrarre risorse all'agricoltura. Quello che è successo in quest'ultimo anno con la perdita di finanziamenti comunitari attraverso il PSR è qualcosa di inaudito. Tutti, oramai a livello internazionale, si parla di sostegno attraverso i finanziamenti comunitari, immagino tutto il tema nazionale che è avvenuto tra il governo e l'Europa e addirittura la Puglia si permette il lusso di perdere milioni di euro a sostegno dell'agricoltura. È qualcosa veramente di orribile. Allora, la prima cosa è quella di sostenere con questi mezzi di finanziamento il sistema agricoltura. La seconda è quello di attivare, come hanno fatto altre regioni. Noi guardiamo certe volte alle regioni del nord, ci meravigliamo, però poi verifichiamo che al sud quelle cose, quelle poche cose che poi hanno bisogno, le nostre imprese non vengono realizzate. La misura 21 necessariamente deve essere messa a disposizione delle imprese agricole pugliesi interessate dell'emergenza Covid. Il Veneto lo ha fatto, la Puglia ancora no. Allora, io penso che l'agricoltura può essere sostenuta attraverso questo meccanismo, un meccanismo virtuoso che premia, non a pioggia, ma premia chi ha voglia di investire. E soprattutto penso che un ruolo importante la Puglia deve anche dedicarlo in quello che è il sistema della PAC. Anche sotto questo punto di vista vi è necessità che la regione intervenga per aiutare le imprese del segmento agricolo ad essere concorrenziari con altre imprese del nord dell'Italia, ma in particolar modo altre imprese dell'Europa.